Termini, senti per... Termini Gavura, ci arrivi? Ho chiesto se arrivi a Termini... Oh mio Dio! Arrivi a Termini... Oh no, niente, non ci arriva, niente, non mi serve allora, ok. Hi Warriors, what's up, my name is the Rack of the Antigone, siamo nuovamente qui su Cry of Fear, una nuova entusiasmantissima video puntata, sempre qui, su Cry of Fear. Allora, siamo arrivati qui con il boss, il genipello Sauer, con la sua motosega di merda. Comunque, se vedete che ho più munizioni, più caricatore, più vita, più oggetti, eccetera, è perché praticamente avevo già girato due video, solo che mi sono accorto che sono stati... sono usciti male e avevo già salvato. Quindi ho dovuto ricominciare il gioco dall'inizio e ritornare fino a qui. Non succederà mai più. Quindi, ragazzi, andiamo a farci questo boss. Sauer. SIG Sauer. No, quella è una persona che... Diamo... Ok, ok, non c'è... Oh mio Dio! Mi ricordi... Accidenti, mi ricordi! Uh... Vai! No! Sa... 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 Peccolino! Peccolino! Io... Vieni! Om! Merda! Merda! Sa... Sa... Sauer, senti! Ti prego! A proposito, mi hanno chiesto di dire una cosa. Ehm... Cos'è? Grincio, grancio, gru, colto sangue, ci faccio il ragù! Oh mio Dio! Non mi ricordo che mi aveva chiesto, mi dispiace! Ehm... Spero... Che ti sia piaciuta, ma sono un po' preso... A fare il... Ragù! Il ragù! Che cosa divertente! Oh merda! Sauer! Sauer! Oh mio Dio! Beh, che cazzo è velocissimo! Quando vuole! Per il resto è un mongo flettico con la motosega! Su! Oh mio... Sauer! Ok... 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 Vai! Vai che è morto! Vai che è morto! No! No! Neanche per idea! Sauer! Vai! Sauer! No! No! Che... Papà! Che cazzo è? No! 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 Non mi sbagliare! Oh me! Oh! Ho un po' di mestro! Oh va bene! Fa niente! Dì, ma si è tagliato la testa? Ho detto... No! Quel coglione mi ha ucciso! Non posso vivere così! Sì! Oh cazzo! Darmi una botta al microfono! Scusate! Avete sentito un... Trududududududu! Cos'è questo? Flashback! Bianco e nero! Così! Perché ci piacciono i flashback! E... Adesso... Oh! L'ho passato! Oh mio Dio! Chi sei? Oh! Chi c'è lì? Rilasciati! Non sono una di loro! Non sono nessuno! Cosa? Non dovresti essere qui! È veramente pericoloso! Aspetta! Perché stai indossando una maschera anti-cassa? Sei stupido o cosa? Sembra uno che si voglia trasformare uno di loro! Ah! Non posso fidarmi di te! Ehm... Non so se tu sei reale! Lasciami da solo! Quanto è? Quanto è? Quanto è? Ok! Quanto è? Ma che c'è? Ok! Adesso... Chi era lui? Nessuno! Ma come nessuno? Oh mio Dio! Si fida anche! Nel vantaggio! Seven progress! Seven! Thank you! Esti lavabbi rozzi e blu! Non si possono vedere! Mai più! Ok! Ho fatto la rima! Sono un fottutissimo rapper da strada! Oh! Sì! Ok! Ammordor! Portami ammord... Ciccio! Ok! Dai! Un posto un po' più vicino! Roma! Andiamo a Roma! Oh! Ho detto... Roma! Ok! Oh mio Dio! Sei inutile anche come taxi! Oh! Che diava era quello! Vabbè! Perché sono uscito fuori? Oh no! Un altro! Ok! Fermo così! Fermo così! DC! Cheese! Cheese! Oh! Hey shot bitch! Ho un... Oh mio Dio! Una siringa! Sì! Adesso quante ne ho? Due! Hmm! Meglio così però! Per non sapere né leggere né scrivere... No! In realtà so scrivere! Perché se no non potevo salvare... Beh! Mi sembra logico! Qui! Che... Che c'è chi? Ciao! 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 Ahahahah! De... Hihihi! Oh! Qui non ci sono... Sì! Ma qui già ci sono entrato! Perché mi riporta indietro! Ah! Ok! Oh no! Oh mio Dio! Sì! Munizioni! Meno male! Ah! Beh però stiamo andando bene ragazzi miei! So via! Abbiamo munizioni a profusione! Siringa a profusione! Coltelli a profusione! No! Una cassa! Niente! Vabbè! Qui! Non mi sembra ci sia una mazza! Una mazza della ma... Hmm! No in effetti non c'è! Perché hanno messo questa stanza se non c'è niente? Ah! Vabbè! Vado a capire! Questi sviluppatori! Comunque! Qui! Cartoni della pizza! 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 Ma almeno se non mangiassero tutta sta pizza! Comunque! Bottiglie di vino! Hmm! E vabbè! Siamo messi così! Qui! Oh mio Dio! Siamo all'esterno! E piove! Piove! Come se non... Stessimo già andando male! Oh mio Dio! Un Nightstick! Sì! Ora sono l'uomo più felice di questo mondo! Con il Nightstick! Ok! Ok! Vediamo un po'! Sì! Oh mio Dio! Oh! 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 Merda! Merda! Ok! A Roma! A Roma! A Roma! Andiamo! Ho detto! Oh mio Dio! I... Nei co... Li posso uccidere così come dei coglioni! Dei coglioni! Sì! 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 Ce ne erano te! Ne ho visti tre! Ma vabbè! Oh! Mio Dio! È orribile! Ma che cazzo? Chi è? Oh! Madonna! Su! Forza! Oh mio Dio! Ce ne sono quattro! Allora... Niente! Aspetto il prossimo! Su! Tu che sei? O 0-1 o o 0-5 bar? Ah beh! Non fa niente! Termini! Senti per... Termini gavura! Ci arrivi? Ho chiesto se arrivi a... Oh mio Dio! Arrivi a Termini... Oh no! Niente! Non ci arriva! Niente! Non mi servi allora! Ok! Ok! Do! Oh mio Dio! Una rivista porno! Per chiamare un numero con il tuo telefono cellulare premi Z! Sì! Ma soprattutto... A quanti minuti sono... ...arrivato? Ok! No! Niente! Non si può sapere a quanti minuti sono arrivato! Perfetto! No! Lo so io! Come fare? Ah! Va bene! 8 minuti! Ok! Ok! A voglia ancora! Allora! Articolo... Per l'uomo moderno? Ma... Non so... Non so... Don... Delay! Chiama il 543214... Chiama il 543214... Oh! Come sai che vanno sul serio? Pronto? Pronto! Chi c'è chi? Che? No! L'oscurità non è il mio mestro! Perché? Che numero? Sì! Potrò procedere ma... 5247... Ok! Ok! Grazie mille! Grazie mille! Ok! No niente! Atta a casa! Fa niente! Vabbè! Era un coglione! Immagino che... Oh! 5... 2... 4... 7! Perfettamente! Sì! Perfettamente! Perfetto! Però... Save... Rex! Perfetto! Perfetto! Allora... Vediamo un po' che c'è chi! Niente! C'è... No! Anche perché devo procedere per di qua! Via corri! No! Niente! Che c'è chi! Nessuno! Ok! Qui? No no! È la porta aperta! Allora... Wait a minute! Qui? Niente! Niente! Nada de nada! Vabbè! Ok! Che è successo? Oh mio Dio! Una motosega! Oh! Che... Che diavolo sta succedendo qui? Non facciamo scherzi della minchia! Non facciamo... No! Oh! È chiappato al volo! No! Scendi! Scendi! Che diavolo? Perché c'era... L'ho ucciso il tizio con la motosega! Perché c'era uno con la motosega! Ah! Vabbè! Ok! Fa niente! Fa niente! Fa niente! Fa niente! Sono un tipo tranquillo io! Mi non interessa! Sei in progress! Saved! Yeah! Oh merda l'acqua! Vediamo un po' Con la pistola! Anzi! Che qui mi ricorda amnesia! Salviamo! E vediamo un po'! Oh mio Dio! Che diavolo... Di... Sei un uomo rana! Maledettissimo uomo rana! Ah! Ok! Ok! Capito! Io scederò con i... Ti chiamano Froggy? Su! Froggy! 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 Non puoi uccidermi! Ma io posso uccidere te! Forza! No! Oh mio Dio! Ok! Ok! Ah! Perfetto! Pensavo fossero peggiori da uccidere! Invece no! Ah! Sarà perché sono... Mio! Aspettate perché qui se casco immagino che morirò! Oh my God! Ah no! Acqua! Oh mio! Oh! 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 Piano! 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 Oh mio Dio! Ho detto piano! Ok! Tu! E tu mi hai... Stancato! 1, 2, 3... Finito le munizioni! Ricarica! Al volo! Ok! Ok! Oh! Perfetto! Andiamo! Oh! Ah mio Dio! Ma non potete farmi così però! Oh! Ah ah! Su! Muori! Da bravo! Ehm... Ora! Visto che ci... Equipaggio! Ok! Visto che ci sono! Diamoci una bella bomba! Don't try this at home boy! Don't try this at home! Perfetto! Perfettamente perfetto! E a quanto siamo? A 13! Perfetto! So! Ok! Oh! Qui sotto! Oh mio Dio! Polizia! Polizia! Senta! Mi serve una mano! Mi sento che state lì dentro! Eh... Scusi! Perfavore! Potrebbe darmi una? Oh! Oddio! Posso sentire! La radio dentro! Comunque! La porta è blocchata! Oh mio Dio! Ok! Vabbè! Fai niente! Che... C'è qualcosa che si muove sul tavolo! Che diavolo è! Non so! Sembrava una sorta di patata se muovente! Patata se muovente! Però è... Cioè! Sembra una di quelle patate OGM orribili! Che... Oh mio Dio! Ti distruggo nel fegato! Comunque! Andiamo per questa strada! Dove? Di qua! Sì! Mi sento... No! Niente! Ok! Toppato! Oh! Froggy! Non farlo mai più! Vai! A... A raccogliere mosche nelle fogne! Bene! Infatti siamo nelle fogne! Ok! Fa niente! Fail! Fail! Dove? Su! No! Non so che razza di mostro mi ricordi ma me ne ricordi uno particolarmente brutto! Non uno bello! Oh! E' su! Via! Ciao! Beccati questo! Per il potere del... Night Seek! Tu morirai! Sì! Non è per il potere di Grayskull ragazzi miei! Anche perché Grayskull qui non c'entra niente! Ok! Quindi non ci voglio andare! Vediamo un po' qui! Vediamo un po' qui! Ma continueremo! La prossima puntata! Oh yeah! Oh yeah! Quindi ragazzi miei! Ci vediamo nel prossimo! Viva un play! Sempre qui! Viva un play! Sono Rex91! Ehm! Per il nome di tutti i commenti Viva un play! Ovviamente! Sempre qui! Ciao a tutti ragazzi e a voi sopra! Rex e non tutti! Sedia! Proteggimi! Sedia! Sedia! Se... Sedia! Uccidilo! Dai! Oh! No! 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 No!